Buongiorno a tutti, bentrovati all'appuntamento con l'informazione delle 13. In apertura la cronaca, in particolare un infortunio sul lavoro che si è registrato questa mattina alla BIPAN di Bicinico. Poco dopo le 9, un operaio di una ditta esterna che opera nei lavori di coibentazione è caduto da un trabattello da un'altezza di oltre 2 metri. Nel volo l'uomo ha impattato frontalmente, frendosi al volto e a una gamba. Il soccorso è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto i carabinieri che dovranno ora fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Un'anziana invece è stata investita da un'auto questa mattina verso le 8.30 in via Udine a Pagnaco. La donna ha riportato un trauma toracico e la sospetta frattura del femore. Soccorsa dai sanitari è stata trasportata all'ospedale di Udine. Chiuso lo svincolo in entrata a Villesse, direzione Bivio A4, a causa di un incidente accaduto verso le 7.30 del mattino in A4 tra Villesse e Palmanova in direzione di Venezia. Nel sinistro un tamponamento fra due mezzi pesanti senza conseguenze per fortuna per le persone ha congestionato la viabilità nel tratto interessato. Sono ovviamente in corso gli interventi per la rimozione dei mezzi. E sono ingenti i danni per l'incendio che ha scopiato questa notte alla sistema SRL, fabbrica di eredamento di San Giovanni al Nattisone in via del lavoro 16. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 sul posto i vigili del fuoco di Udine, Gorizia e Cividale, che sono riusciti a evitare che il fuoco si propagasse alle altre aziende vicine e nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme hanno però danneggiato l'area del capannone dove si effettuava la lavorazione del legno e una parte è dedicata esclusivamente alle sedie. Ancora da chiarire le cause del rogo. I carabinieri che hanno posto sotto sequestro l'area al momento non escludono alcuna ipotesi. Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza sono proseguite fino a questa mattina. Ci spostiamo a Udine perché il patto per l'autonomia si schiera contro la riapertura al traffico di via Mercato Vecchio. Il direttivo della comunità di Udine del patto per l'autonomia ha deciso di aderire alla manifestazione Senza Auto Ci Guadagnano Tutti, promossa da FIAB Udine con il sostegno di altre associazioni cittadine che si eterà domani alle 18 partendo da Piazza San Cristoforo. Siamo solidali con gli organizzatori, spiega Andrea Valcic del movimento, perché lo scopo, le motivazioni e i contenuti della manifestazione sono pienamente coerenti con il programma proposto alla città in occasione delle elezioni comunali del 29 aprile dalla nostra lista. Valcic invita aderenti e simpatizzanti del patto per Udine a partecipare all'iniziativa e a sottoscrivere la petizione online. Alla passeggiata collettiva sarà presente anche il consigliere regionale Massimo Moretuzzo, segretario del patto per l'autonomia. Rimaniamo a Udine perché la farmacia colutta di Piazza Garibaldi ha pubblicato il suo primo bilancio sociale. La prima attività di questo genere in regione e tra le prime in Italia a promuovere questa iniziativa. Sentiamo. Ogni anno un viaggio aziendale per i sette dipendenti assunti a tempo indeterminato. Miconos Parigi e quest'anno New York. Questa è solo una delle politiche di welfare aziendale e di gestione delle risorse umane della farmacia Antonio Colutta di Piazza Garibaldi a Udine che, prima attività nel settore, ha presentato il suo bilancio sociale. Un progetto in cui la titolare Antonella Colutta, consigliere mandamentale di Confcommercio Udine, crede molto. Nasce da una visione, nasce dal fatto che mi faceva piacere raccontare agli stakeholders, cosiddetta, ma i cittadini in generale, le tantissime attività che tutte le farmacie e noi con grandissima passione facciamo sul territorio e per il territorio, impegnandoci ogni giorno con le persone che hanno problemi ma anche con i giovani, anche con i cittadini che comunque hanno bisogno di un punto salute, e chiamiamolo così, e la sua consulenza professionale. La volontà è quella di fotografare il cuore dell'azienda, a partire da chi ci lavora ogni giorno e da chi la frequenta quotidianamente per le proprie necessità. Ci consente, conclude Antonella Colutta, di risparmiare denaro, tempo ed energia e di intercettare i bisogni e le aspettative dei clienti. La Larice Carni di Amaro cessa la propria attività dopo 50 anni di storia. Sono già a casa da venerdì 15 dipendenti. L'azienda che opera nel campo della macellazione, principalmente dei suini, e che produce salumi in un incontro convocato per vie brevi, ha comunicato al sindacato, come riferisce la CGL, la decisione di chiudere a causa di problemi personali del titolare e per la mancanza di figure in grado di portare avanti l'attività. La Fly CGL, pur riconoscendo le difficoltà, ritiene necessario cercare una soluzione alternativa alla chiusura. Per questo motivo, insieme alla File CISL, ha inviato una richiesta urgente di incontro agli assessori regionali Bini, Zanier e Rosolen. Rimaniamo in montagna, ma questa volta con una bella notizia, perché grazie alla collaborazione tra sponsor privati, CAI e Alpini, primo esempio del genere, è stato inaugurato in quota, dopo l'intervento di Repristino, il sentiero del battaglione Gemona, che prende il nome da chi lo realizzò cento anni fa. È stato inaugurato sabato, nella splendida cornice dei Monti della Valdogna, a oltre 1.900 metri di quota, il sentiero del battaglione Gemona. La lunga opera di Ripristino ha visto l'opera ai volontari delle sezioni CAI di Pontebba e Tarvisio, supportate dalla commissione Giulio Carnica Sentieri, all'interno di un progetto dell'associazione Maidaur. Il taglio del nastro è avvenuto a cura di una piccola madrina del sentiero, coadiuvata da due giovani futuri alpini. La cerimonia si è poi conclusa sul ripiano del ricovero Bernardinis. Si tratta del primo caso di collaborazione tra sponsor privati, CAI ed Alpini. Il percorso, lungo 12 chilometri, si snoda sulla dorsale della Valdogna, da sella bieliga allo Iov di Miegegnot, ed è dedicato allo storico battaglione di Alpini che lo realizzò cento anni fa. La percorrenza, riservata ad escursionisti esperti, porta a toccare con mano le vestigia della Grande Guerra, il tutto all'interno di un ambiente naturale integro e meravigliosamente affacciato sui monti della Valdogna e della Val Canale. È stato Alberto Angela, come sempre attesissimo dal pubblico, a chiudere ufficialmente l'Aquileia Film Festival. La Fortuna degli Etruschi, titolo del documentario che testimonia il peso di questo popolo nella storia della nostra civiltà, con regia di Marzia Marzolla e produzione in collaborazione con Rai Storia, ha vinto il premio Aquileia 2018, decretato dal pubblico per il nono festival dedicato al cinema archeologico a cura della Fondazione Aquileia e collaborazione di Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. C'erano più di mille persone in piazza Capitolo, con scenario La Maestosa Basilica dei Patriarchi, per la chiusura sipario di una tre giorni dedicata al meglio della produzione cinematografica internazionale su temi archeologia e storia, con il contributo di prestigiosi divulgatori scientifici invitati ad animare il sito UNESCO a diffondere la cultura nelle diverse prospettive del grande cinema. Alla proiezione di storie della sabbia, La Libia di Antonino Di Vita, documentario prodotto dall'Università di Macerata, con regia di Lorenzo Daniele, terzo classificato fra i film in concorso, è seguita la conversazione che Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, ha tenuto con l'atteso ospite. Alberto Angela, paleontologo, giornalista e scrittore, volto popolare per la trasmissione che conduce in Rai come divulgatore scientifico. Indubbiamente la divulgazione ha bisogno di una serie di alimenti, è un po' come il mestiere del cuoco, gli ingredienti sono quelli, poi devi sapere anche fare bene i piatti e le ricette. Però, ripeto, la curiosità è la base essenziale di questo mestiere. Ad Aquileia già sono in molti a considerare Alberto uno di casa per avere preso parte al festival dello scorso anno. Tornando ai premi 2018, sul secondo classificato, i favori del pubblico sono andati al documentario francese Indagini archeologiche, Persepoli, Il paradiso persiano, dei registi Anges Moria e Raphael Licandro. Sta per entrare nel vivo la seconda edizione dell'Anciutti Music Festival, un evento che vuole ricordare una figura molto importante, ma ancora poco conosciuta, quella di Giovanni Maria Anciutti. Per farci raccontare di più di questa iniziativa, abbiamo il piacere di avere qui con noi ospite in studio, il sindaco di Forni di Sopra, Lino Anciutti. Buongiorno, grazie innanzitutto per essere qui. Allora, io partirei innanzitutto dal motivo di questo festival, la figura proprio di Anciutti, un costruttore di strumenti a fiato che si è fatto conoscere un po' in tutta Europa. Sì, lui è partito, è nato nel 1647 a Forni di Sopra, poi è nato a 18 anni a Venezia, aveva imparato l'arte del tornio, poi è andato a Milano, ha cominciato a costruire questi oboe, fino a diventare il più grosso costruttore a livello mondiale, tant'è che Vivaldi lo ha soprannominato lo Stradivari del Lobo, e quindi questo personaggio che, fra l'altro, abbiamo scoperto dagli studiosi della musica da pochi anni, grazie appunto a studi durati decenni e decenni, ha sconvolto un po' tutto il mondo della musica, perché dietro a questo strumento si pensava non ci fosse un uomo. Poi invece sono risaliti con gli archivi storici, soprattutto di Venezia, della Serenissima, sono arrivati fino a Forni di Sopra, dove Lanciuti, che adesso è diventato Anziuti, quindi è un mio avo, si è scoperto appunto che lui è un fornese di Forni di Sopra, quindi da lì siamo partiti, ed è giusto rendigli onore, perché è un personaggio di carattura mondiale. Allora, dal 21 al 26 agosto, dicevamo, sarà un po' il momento clou di questo ricco calendario, che poi continuerà fino al mese di ottobre, e ha già registrato anche degli altri appuntamenti, già a partire dal mese di aprile, quindi cosa succederà? Sì, noi siamo partiti già, come diceva lei, il mese di aprile, siamo andati sia in Austria, sia in Slovenia, sia in buona parte del nord Italia, quindi ogni mese abbiamo degli appuntamenti, sono stati giù anche a Lignano, e chiuderemo a Trieste il mese di ottobre, quindi poi ci sarà il clou dal 21 al 26 di agosto, a Forni di Sopra, dove ci sarà un camp, dove ci saranno anche dei musicisti a livello europeo, che staranno appunto in quelli forni, e le persone che vengono a Forni di Sopra potranno quindi sentire anche la musica, suonati con questi strumenti, che hanno un'importanza eccezionale. basti pensare che ci sono degli oboe tipo a Milano e anche a Salisburgo, che hanno un valore di 500 mila euro, e a proposito appunto di Milano, noi abbiamo avuto riconoscimento proprio settimana scorsa di poter mettere vicino allo stemma del comune di Forni di Sopra anche quello del comune di Milano, quindi è un riconoscimento non da poco, datosi dal Castello Sforzesco, dove ci sono gli strumenti dell'Anciudio, e quindi è una cosa per noi molto importante che ci dà ancora più respiro per i prossimi anni, per ripeto, renderlo conosciuto in tutto il mondo, quindi non solamente in Europa. Bene, allora l'appuntamento quindi a Forni di Sopra per scoprire qualcosa di più di questa figura e anche per gustare dell'ottima musica, grazie ancora al Sindaco per essere stato nostro ospite, con questa notizia termina il nostro telegiornale, io vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione che tornerà come sempre questa sera alle 19. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie a tutti.